Imprenditoria pugliese a confronto per imparare a fare meglio sistema in Puglia. È un evento tutto dedicato agli imprenditori dell'industria e dell'artigianato locale, quello organizzato per la prima volta dall'ASI, il Consorzio per l'area industriale barese. La manifestazione è stata patrocinata dalla Camera di Commercio di Bari in collaborazione con il Politecnico. Da oggi fino a mercoledì gli imprenditori si confronteranno per interagire e dare nuova linfa al tessuto economico locale. Anche le istituzioni faranno la loro parte. La vicepresidente della Regione Puglia, Loredana Capone, ha illustrato le azioni che il Governo regionale sta mettendo a punto per rafforzare i fattori di competitività del sistema imprenditoriale attraverso il ruolo centrale dei consorzi ASI pugliesi. Il senatore Antonio Azzolini, presidente della Commissione Bilancio del Senato, invece, è convinto che fare sistema sia l'unica soluzione per rafforzare l'economia pugliese ed in particolare i settori dell'industria e dell'artigianato. È necessario, nel nuovo clima economico nazionale e non solo, mettere in rete il tessuto di piccole e medie imprese tipiche della Puglia per poter competere, innovare e stare sui mercati di tutto il mondo. Le rese di impresa sono un utile strumento perché non fanno perdere la individualità e quindi la forza personale, la genialità, lo spirito di lavoro che c'è, ma insieme rendono possibile la competizione sul mercato grazie ad una particolare dimensione che, voglio ricordare, è imprescindibile per innovare i processi, i prodotti e la qualità.